Radio Radicale, siamo con l'On. Sbardella di Fratelli Italia per parlare del termovalorizzatore di Roma. Qui è arrivato il decreto PNRR che esaminerete anche voi in commissione per la parte di merito che vi toccherà fare. Le volevo chiedere se avete capito se tutto il centro-sinistra adesso si unirà contro il termovalorizzatore di Roma con la posizione del PD oppure se non avete ancora notizia di quello che pensa il PD su questo? No, noi non abbiamo notizia di che cosa pensa il PD e credo che neanche i dirigenti romani sappiano ancora che cosa devono pensare in virtù della nuova linea che la nuova neosegretaria Schlein imponga su questo argomento. Noi siamo convinti che il termovalorizzatore serva per chiudere il ciclo dei rifiuti, siamo attenti a studiare e a capire i particolari per la realizzazione del termovalorizzatore, cioè come farlo, dove farlo. Su questo siamo disposti ad approfondire ma non c'è dubbio che il termovalorizzatore è necessario. Ho capito. Pensa che si acquirà la polemica politica sul termovalorizzatore quando arriverà il provvedimento qui e soprattutto non trova strano che il principale partito d'opposizione ancora non abbia fatto sapere cosa... Non solo il principale partito d'opposizione ma è il partito che esprime il sindaco di Roma che è quello che ha proposto la costruzione del termovalorizzatore. Quindi qualora il PD dovesse decidere di essere contrario al termovalorizzatore sarebbe uno smentita di ciò che il sindaco, espresso da loro, ha proposto finora. Ho capito. Cosa pensa del fatto che resta ancora aperto questo dubbio? Non la fa sorridere questa cosa qua? Allora, potremmo specularci, però è normale che l'elezione di un nuovo segretario di un partito può anche comportare dei cambi di linea su alcuni argomenti. Sarà singolare capire come la mettono nei rapporti con il sindaco di Roma che di fatto è espressione del loro stesso partito. Quindi è legittimo che un partito possa rivedere qualche posizione in virtù dell'elezione di un nuovo segretario e questa è una questione abbastanza importante su cui non ci aspettiamo grossi cambiamenti. Bene, da ringrazio. Ringrazio Donoress Bardella e i Fratelli d'Italia. Grazie a voi.